Deschamps come Zagallo e Beckenbauer, campione del mondo da giocatore e allenatore Con il successo della Francia a Russia 2018, lallenatore della Nazionale Transalpina ha eguagliato primato del campione brasiliano e del Kaiser. Con il successo ai Mondiali di Russia 2018, Didier Deschamps è il terzo uomo di calcio a vincere la Coppa del Mondo da giocatore e da allenatore. . 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 Ricorsi storici. Dal 1998 al 2018, dalla Francia alla Russia. Dopo 20 anni tocca al portiere Hugo Lloris alzare il trofeo. Il numero 1 transalpino è stato un capitano allaltezza e un estremo difensore affidabile, tranne quando un suo gravissimo errore di distrazione ha permesso a Mario Mandzukic di riscatarsi dalla sua goffa autorete e segnare il gol del 4-2 che ha dato alla Croazia lillusione di poter rimontare lo svantaggio. Deschamps, il giusto mix fra talento ed equilibrio tattico. Ma il pronostico è stato rispettato e la Francia si è laureata campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Partita tra le favorite iniziali, è stata guidata alla vittoria da quella dose di fortuna che caratterizza sempre i grandi successi nel calcio e dallabilità di un allenatore capace di mettere in campo una squadra solida. Compatta e grintosa. Difficile da perforare ma in grado di colpire in qualunque momento con le fiammate di talenti straordinari come Griezmann, Bappé e Pogba. Deschamps ha giocato ben 5 anni nella Juventus e limpronta lasciata dal calcio italiano è evidente anche nel suo modo di allenare. Sì al talento ma con equilibrio tattico. Poco importa che non abbia espresso il calcio champagne che tanti, soprattutto in Francia, si aspettavano. Poco importa che lo abbiano definito un generale fortunato come quelli di Napoleone. L'obiettivo era riportare la Coppa sugli Champs elissese all'ombra della Torre Eiffel, ed è stato raggiunto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.